e ma in penna però già non vengono le foto è sì sì ma tanto arriva dove dobbiamo andare anche noi no non fare cazzate porca loca no no se cadi lì cazzo la polvere è il problema lì no gli restava sul montesa perché si appoggia la pianta però qua ti voglio qua ti voglio guarda il parafango basta adesso vedi che non prova più è caduto là non prova più andiamo da siamo dietro seve sì secondo me pian pianino ci portiamo giù che così ha pure pure c'era un ramo per